mi dica c'è una domanda si dimmi pure siccome al mare si è comportato benissimo a benissimo è andato all'oreto si è pregato si è pentito ma oggi come si è comportato nonostante che è stata al santuario dell'oreto oggi si è comportato malissimo no è vero si è vero il mare sta fermo con le mani perché il mare sta fermo con le mani il mare l'ha nervosito si è nervosito sto deficiente a l'oreto benissimo oggi malissimo a l'oreto benissimo dopo il mare benissimo oggi no dopo il mare malissimo e quindi ricapitolato l'oreto benissimo dopo il mare benissimo no malissimo ma malissimo non ci capisce più niente o no c'è stato più un cazzo c'era più che la nostalgia del sак mi fa male la schiena si fa male la schiena perchè si abbassa e faccio da su no non nab sei non nab non nab frate è quanto sei bello questo gravattino è quanto sei bello ho messo la farfalla è bella farfallina fratellino farfallino fratellino farfallino fratellino farfallino fratellino farfallino